Ciao a tutti, benvenuti ancora qui all'Apa di Chioggia. Oggi siamo in compagnia di un tenerissimo e bellissimo e sfortunatissimo cagnolino, Apollo. Ciao a tutti. Allora, lui è Apollo, un anno circa, forse anche meno. La sua storia ha dell'incredibile, però purtroppo è vero. L'ha trovato da una passante, una ragazza, in mezzo alla strada, agonizzante, si è fermata, l'ha raccolto. Premetto che prima di lei sarà passata a 1500 macchine, tutti a tirare dritto, nessuno si è fermato. Apollo è stato portato immediatamente dal veterinario in clinica, a bacino e fratture varie, e miracolosamente è stato salvato, perché i veterinari che l'hanno seguito sono stati eccezionali. Ora il cane ha bisogno di degenza, come potete vedere non è la location migliore, però purtroppo possiamo solo offrire questo, causa il canile pieno, perché non abbiamo più posto per ospitare nessun cane. Niente, Apollo ha un anno, è buonissimo, nel giro di un mesetto dovrebbe rimettersi in piedi, tornare perfettamente come era, però non potrà vivere certamente qua dentro. Quindi se qualcuno ha un posticino per lui, lui vi aspetta, è buonissimo, non avrete da spendere un euro, perché vi verrà consegnato perfettamente a posto, e dovrete solo dargli tanto, tanto amore e una casa. Questo è Apollo, 15-20 kg di bontà. Bene, mi raccomando, offrite una possibilità ad Apollo. Quando pensate a un'adozione, pensate anche ai cagnetti che hanno più bisogno. Ha bisogno, ecco, Apollo ha bisogno, guardate che occhietti, chiede proprio aiuto. Magari, aiutatelo, mi raccomando, APA di Chioggia, Statale Romea, Chioggia a Sant'Anna, grazie a tutti, adottate, adottate. Ciao! 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 Grazie a tutti